In the key of life E ora, Kali Smash Up, solo su Thea Kids Tra poco, un nuovo episodio di Kali Smash Up, solo su Thea Kids Pablo, sarà bello passare questa serata insieme Nei nuovi episodi di Kali Smash Up No, non puoi dirmi questo, Kali C'è aria di tempesta Ricordi che dobbiamo parlare, vero? Non capisco perché hai detto a Cindy che siamo tornati insieme Ti dà fastidio che io stia con i vari sogni? No! Vorrei dedicare un pezzo a un amico molto speciale Pablo, lo dedico a te Sarà davvero tutto finito tra loro Scoprilo nei nuovi episodi di Kali Smash Up In prima tv assoluta Da lunedì 10 giugno alle 13.50 Solo su Thea Kids